E' no, ma allora lo vedi che c'è qualcosa che non va? Mi manca. Ancora? Ma tu puoi fare starci ancora sotto? Che ti devo dire? Impastate. Non vedo nessuno da un mese. Mangio, lavoro, faccio yoga, preparo le torte. Mi mancate, ragà! Oddio. Hanno suonato? E beh, vai a rispondere, no? Che è? Un casco. Un casco. Grazie a tutti.